E caccia al sostituto di Vincenzo Fiorillo. Pigliacelli rimane la prima scelta, trattativa va detto non facile con l'Università di Craiova. Dopo tre anni, classe 93, scuola Roma, vuole tornare in Italia, farlo a Pescara dove in passato non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale. Sarebbe cosa molto gradita. Pigliacelli è legato al Craiova sino al 30 giugno 2023. Nel 2018 il club rumeno ha tirato fuori 400 mila euro per acquisirne le prestazioni. Il portiere era di proprietà della Provercelli. Si potrebbe lavorare sul prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Delfino, ma bisognerà anche capire le reali intenzioni del Craiova. Da poco tempo infatti è cambiato il preparatore dei portieri e Pigliacelli si è ripreso il posto. Dall'altra parte però c'è la fortissima volontà dell'ex Trapani e Provercelli di tornare a Pescara. Le alternative. Gli svincolati Iacobucci, classe 91, pescarese d'oc, reduce dal triennio di Frosinone, di Gennaro, scuola Inter, che Auteri conosce molto bene per averlo allenato a Catanzaro. Pisseri e Bindi, in uscita rispettivamente da Alessandria e Pordenone. Andrea Dini, classe 96, otto presenze col Padova da gennaio a giugno scorsi. Da titolare ha disputato le semifinali e finali play-off contro Avellino e Alessandria. Intanto Edgar Elisalde è tornato in patria, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Peñarol, il club più titolato dell'Uruguay. Arrivato a Pescara nell'estate 2017 per il 21enne difensore sudamericano, soltanto 284 minuti e complessivamente sei presenze, di cui tre in Coppa Italia. In due sessioni di mercato ha giocato in C per sei mesi a Catanzaro, tre presenze con Auteri in panchina nel 2019 e altri sei mesi lo scorso anno, gennaio-giugno 2021, nella Juve Stabia, 14 presenze. Esordio in via, appena 17enne il 28 ottobre 2017, quando sostituì Marco Perrotta, 15 dal termine, nella sfida interna persa dal Delfino col Brescia. Nell'esperienza pescarese solo due partite intere, ma in Coppa Italia a Verona contro il Chievo, agosto 2018 e lo scorso anno col Notaresco. Finora 17 operazioni, 10 in entrata. Zappella, Cancellotti, Iglianes, Rasi, Pompetti, Ferrari, Dursi, De Marchi, Frascatore e Marilungo. Sette in uscita, Scognamiglio, Masciangelo, Crecco, Bunino, Sorensen, Fiorillo e appunto Edgar Elisalde.